Al florto Davide Di Mastro Giovanni, al violino il maestro Giuseppe Giannazzi, al tamburello Lozzino Cristo Eschino, al tamburello Cassi e Piazzi, Francesca Lemano, al laurello Massimo Dessero, alla chitarra, nuovissimo, Vincenzo Di Piero, alla voce Giulia Parente, ringrazio Giovanni Indino, facciamo un applauso anche per Giovanni, il nostro fonico, non so se mi vede, mi vedi? Alza la mano Giovanni, mi vedi? Ok, non mi vedi, ok. Un grazie a tutti i tecnici del parco, ringraziamo l'organizzazione di questa splendida festa, vi ricordiamo dopo di noi, ci saranno altri gruppi, quindi rimanete, continuarete a ballare. Buona serata e grazie mille. Frac! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.